La schiava bambina. Ah, la riconosci. E Bakhita, la schiava migliore che abbia mai avuto. La schiava migliore che abbia mai avuto. La schiava migliore che abbia mai avuto. Non devo fare. Ci penso io a portarti fortuna. Vi ho portato una sorpresa. Da dove vieni? Non lo so. Bakhita, Agatha e Carolina ti stanno aspettando per andare a Venezia. E si sembra quella bambina, vero? Benvenuta, Bakhita. Bakhita. Che vuol dire? Fortunata.